Piazza Grande è dedicata a Roberto Giustastante e dal Movimento Trieste Libera con il quale parliamo dell'appuntamento di domenica prossima dalle 9 alle 20 a San Giovanni Duino. Giustastante, torna a questo appuntamento. Si, si tratta dei presidi al confine di Stato tra territorio libero di Trieste e Repubblica Italiana. Svolgiamo questi presidi lungo la linea di confine con l'Italia da febbraio e quindi siamo arrivati al quinto mese di questa azione, che è importante perché oltre a far vedere, a far conoscere quel confine, l'esistenza di quel confine e con la predisposizione di nostri stand ai quali diamo informazioni, materiale informativo naturalmente, e a chi passa appunto nella zona e predisponiamo appunto anche la corretta segnaletica stradale che è appunto quella che indica l'esistenza del confine. E quindi è la segnaletica che è fatta praticamente in conformità con le disposizioni del governo militare alleato. Era quella che veniva utilizzata dal 1947, è stata utilizzata tra 1947 e 1954. Ma non solo questo, sulla linea di confine noi abbiamo provveduto anche a individuare i punti trigonometrici che erano stati cancellati, i cippi anche, che appunto segnano il confine esistente con l'Italia. Quindi abbiamo praticamente in questi primi 4 mesi ritracciato il confine, individuato i punti trigonometrici che erano quelli segnati dal governo militare alleato, ripristinato in alcuni casi cippi che erano stati occultati o addirittura distrutti dalle autorità italiane e quindi è un'azione importante. Quindi anche domenica saremo appunto lì, quindi a San Giovanni di Duino, ci sarà quindi il nostro presidio appunto nella zona della cartiera Burgo e poi sarà anche organizzata una visita al proprio confine, quindi lungo i 4 km di confine, dalla mattina al pomeriggio. Come la prendono le persone che passano di là per strada, specie turisti? Beh, molto bene, la maggior parte delle persone che passa di là, i triestini, sono contenti e quindi approvano naturalmente quello che noi facciamo e naturalmente fa piacere vedere che ci sia in questo momento chi sta difendendo quel confine che rappresenta l'esistenza stessa del territorio libero di Trieste. E dall'altra parte quelli che non sono così informati, tipo passano anche molti stranieri, ricevono le informazioni da noi appunto con la distribuzione di materiale informativo e quindi anche questo è molto utile perché facciamo conoscere questa realtà, questa situazione anche a livello internazionale. Passiamo alla protesta fiscale. Di fatto avete in alto con parecchie persone una sorta di rivolta fiscale. Ci spiega come siete arrivati a questa decisione e soprattutto cosa sperate di ottenere? Beh, direi che più che una sorta di rivolta fiscale si tratta di una opposizione nei confronti del pagamento delle tasse che vengono imposte dallo Stato italiano in violazione del Trattato di pace e quindi dei nostri diritti di Stato indipendente con ovviamente diritto ad avere un nostro bilancio di Stato che non può essere quello della Repubblica italiana. L'Italia invece sta imponendo le proprie tasse, appunto violando oltretutto l'articolo 5 dall'Elegato X del Trattato di pace che stabilisce che il territorio libero di Trieste non può essere soggetto al pagamento del debito pubblico dell'Italia e quindi i cittadini del territorio libero di Trieste non devono pagare le tasse dello Stato italiano, ma devono semplicemente pagare le tasse che servono all'amministrazione del loro Stato, il territorio libero di Trieste. Qui l'Italia è un paese terzo, non ha quindi alcun diritto di imposizione fiscale, mentre lo ha il governo amministratore civile provvisorio che ai sensi del memorandum d'intesa di Londra si è preso l'impegno appunto di amministrare, governare il territorio libero di Trieste, il portofranco internazionale di Trieste, ma appunto nel rispetto del Trattato di pace, non in violazione del Trattato di pace. I rapporti non sono buoni neanche con il Prefetto, cosa succede che vi ha fatto investerire? Ma intanto riguarda appunto l'azione del Prefetto proprio nei confronti di queste legittime richieste dei cittadini del territorio libero di Trieste che appunto seguono le indicazioni del Movimento Trieste Libera. Stiamo parlando di questi 229 cittadini che secondo il Prefetto Commissario di Governo, perché è comunque la stessa persona che ricopre le due cariche, avrebbero appunto fatto un atto in violazione di legge, solamente che le cose non stanno così. Come si diceva, queste persone, questi 229 che in realtà sono molti di più, si parla di migliaia di persone, noi stiamo qui in questo momento valutando un'azione che è partita da qualche anno. Questa è la fase terminale di questa azione, il Prefetto Commissario di Governo si riferisce alle ultime 229 domande, ma prima ce ne erano altre migliaia e che sono sempre valide, perché il Commissario di Governo ha mantenuto costantemente una posizione che è quella di non dare alcuna risposta ai cittadini del territorio libero, che chiedevano e chiedono quali sono appunto le imposte che devono pagare per l'amministrazione del loro Stato. Quindi il Prefetto ha dato degli evasori fiscali a dei cittadini che invece, scusate, se fossimo evasori fiscali non andremmo ad autodenunciarci alle autorità direttamente al Capo di Governo, invece abbiamo fatto un'obiezione fiscale motivata, dopo che c'è stata rifiutata la risposta e quindi non ci è stato detto quali erano le tasse che dovevamo pagare per l'amministrazione del nostro Stato. Quindi direi che siamo dalla parte della Regione, non abbiamo certamente alcun timore delle disinformazioni che vengono diffuse da parte delle autorità italiane, in questo caso da parte dei vertici, del vertice in questo caso il Capo di Governo provvisorio, Commissario di Governo, la quale ha commesso certamente un atto grave andando a diffondere una notizia contro appunto dei cittadini pubblicamente, quindi una nota stampa alle agenzie di informazione, regentieri di stampa, andando praticamente a indicare questi 229 cittadini come appunto degli evasori fiscali, persone che avrebbero avuto conseguenze secondo lei per quello che stavano facendo. Qui le uniche conseguenze sono che da una parte c'è il Commissario di Governo che ha dichiarato di non essere rappresentante del Governo amministratore provvisorio, quindi di non rappresentare chi in questo momento ha il mandato di amministrazione del territorio libero di Trieste, ma ha detto che lei agisce per conto dello Stato italiano perché qui secondo lei esiste la sovranità della Repubblica italiana. Bene, questa signora in questo modo ha messo per iscritto che lei sta violando il Trattato di Pace, che sta agendo per reprimere dei cittadini che invece stanno chiedendo rispetto dei loro diritti in base al Trattato di Pace, che è in vigore e di queste cose ovviamente poi la signora Prefetto Commissaria dovrà rispondere. Venendo alle situazioni del Comune di Trieste, se l'inchiesta di Federico Frezza è stata chiusa sull'erogazione dei contributi ad Personam, decisa dalla Giunta e dai consiglieri comunali, resta aperta la posizione della Corte dei Conti che sta valutando se chiedere e condannare per danno erariale i dipendenti comunali coinvolti. Cosa pensa di questa assoluzione ai politici? È del rischio per i dipendenti di esercire i soldi che i politici avrebbero dato illegittimamente, ricordiamolo, secondo la Corte dei Conti alle associazioni amiche? In sintesi direi che se è possibile, in base a queste notizie, se è possibile sfuggire alla giustizia penale è più difficile sfuggire a quella erariale, fiscale. Qui si è dimostrato ad esempio che su un'inchiesta che riguardava l'utilizzo fatto in maniera piuttosto disinvolta di soldi pubblici a sostegno di associazioni che non avevano diritto, in pratica accadeva che venivano erogati finanziamenti ad associazioni che erano semplicemente rappresentate da padrini, da persone che avevano agganci all'interno del Comune e quindi prendevano una via agevolata per poter avere concessioni per qualsiasi tipo di iniziativa, in violazione naturalmente di quelle regole della trasparenza che prevedono che vi sia la possibilità di sottoporre le richieste di finanziamento e quindi l'erogazione di soldi pubblici e a dei controlli severi e quindi vuole dire anche alla valutazione dei progetti che vengono presentati. Il Comune questo non ha fatto perché pensavano di poter andare tranquillamente a distribuire questi soldi e a cascata per gli amici degli amici, quindi l'inchiesta dell'autorità giudiziaria penale si è chiusa senza individuare, ma come anche in altri casi abbiamo visto alcuna responsabilità, però rimane il danno erariale e per il danno orariale comunque rispondono poi quelli che hanno firmato l'atto che ha permesso l'erogazione di quei finanziamenti. Quindi direi che è un caso purtroppo emblematico del sistema di malgoverno e delle malversazioni in corso purtroppo da tanto tempo, questa è un'inchiesta che riguarda di circa 5-6 anni fa, ma comunque che adesso arriva al punto finale con l'intervento con le indagini delle Corte dei Conti, ma comunque si tratta di situazioni che riguardano purtroppo l'intero sistema di governo e quindi di amministrazione qui a Trieste, non solo a Trieste, ma qui ci stiamo occupando di Trieste. Abbiamo visto peraltro anche lo scandalo dell'utilizzo dei soldi, dei finanziamenti pubblici da parte dei consiglieri regionali e anche lì si è arrivati poi all'assoluzione dei politici, in quel caso dei resi responsabili dell'utilizzo di quei finanziamenti, in quanto non viene a dolo da parte loro. Il problema è che però rimangono poi i danni prodotti alla comunità, perché quei soldi evaporano, vengono utilizzati per altre finalità rispetto a quelle per cui potrebbero essere utilizzati, si porta un danno all'intera collettività, quindi anziché essere usati per il bene dei cittadini, vengono usati per interessi personali, a quel punto l'unica possibilità di difesa è che effettivamente intervenga almeno l'autorità giudiziaria erariale per recuperare e far pagare a chi appunto quei soldi li ha utilizzati contro legge. Facciamo un passo indietro e torniamo alla campagna elettorale. Su Facebook abbiamo visto un dibattito piuttosto acceso tra voi e la polizia locale in Piazza della Borsa. Per chi non l'ha visto, ci spiega cosa è successo? È successo che durante l'ultimo giorno, il giorno prima delle elezioni, quindi sabato, c'era stato contestato il fatto che stavamo facendo impropriamente, secondo i vigili urbani, secondo le autorità di polizia, campagna elettorale contro ovviamente le elezioni, perché stavamo diffondendo dei messaggi dalla nostra sede, quindi avevamo in funzione la nostra radio, diffondevamo messaggi sulle elezioni e che stavamo distribuendo materiale informativo in piazza che riguardavano le elezioni. Noi abbiamo fatto presente che non partecipiamo intanto e non partecipavamo alla campagna elettorale. Uno, che non eravamo tenuti a seguire le regole delle elezioni della campagna elettorale italiane e tant'è che durante l'intera campagna elettorale il nostro movimento è stato ampiamente censurato dagli organi di informazione nel rispetto delle leggi italiane, solo che quelle leggi italiane qui non hanno valore. Quindi non eravamo tenuti innanzitutto al rispetto di quelle leggi che riguardavano il regolare svolgimento delle elezioni italiane nel territorio libero di Trieste, perché l'unica cosa certa è che quelle elezioni non sono regolari, sono le elezioni di uno Stato occupante che ci impone tramite anche queste elezioni farsa la propria illegittima sovranità. Quindi noi abbiamo diritto come cittadini del territorio libero di Trieste a precisare, a far conoscere queste cose durante la campagna elettorale loro, anche quando a loro non fa comodo. Quindi questo era il termine della contesa. Dopodiché siamo stati sanzionati perché avremmo violato la legge regionale che riguarda le elezioni, ma in quel caso riguarda le elezioni regionali, non quelle amministrative. E poi ci sono state delle imprecisioni da parte dei vigili urbani quando ci hanno contestato facendo verbale la sanzione. Vabbè, comunque nulla, ripeto, di particolare. Noi stiamo facendo legittimamente un'azione informativa nell'ambito della nostra causa e quindi nell'ambito dell'azione che svolgiamo per la difesa dei diritti dei cittadini del territorio libero di Trieste. Certamente non ci facciamo impaurire e intimidire da questi tentativi repressivi messi in atto dalle autorità italiane, che siano statali o che siano comunali, al servizio dell'Italia. Grazie a Roberto Giustante.